Lutto nel mondo della politica è morto all'età di 78 anni Gianni De Michelis, storico esponente del PSI di Craxi negli anni 80, vicepresidente del Consiglio e più volte ministro. Francesco Maesano. Veneziano e socialista, agli inizi nella sinistra del partito, la traiettoria politica di Gianni De Michelis prende quota dopo l'incontro con Bettino Craxi. Nei ruoli chiave del governo durante tutti gli anni 80 e i primi 90, vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, del lavoro, delle partecipazioni statali, in prima linea contro il referendum per abrogare la riforma della scala mobile. Sua la firma italiana sul trattato di Maastricht del 92 insieme a quelle di Andreotti e Carli. Ha formato tanti tecnici, alcuni dei quali poi impegnati nei governi successivi, da Brunetta a Sacconi. Fine intellettuale e politico esuberante, avanzo di balera, la definizione inventata per lui da Enzo Biaggi tenendo assieme la passione per il ballo, alle indagini di Mani Pulite che lo vedranno coinvolto in 35 procedimenti giudiziari. Tra tante assoluzioni, le condanne per le tangenti nelle autostrade in Veneto e per la vicenda Enimont. Seguirà la diaspora socialista e i tentativi, spesso litigiosi, di far risbocciare il garofano sotto altre forme. All'Italia di oggi, diceva in una delle ultime interviste, manca l'ottimismo degli anni 80.